4 i rettilinei a massima velocità dove si sfiorano e superano i 300 chilometri all'ora. Lo stress con la monoposto 2014 è legato alla maggiore coppia disponibile prodotta dalla trazione elettrica che può generare pattinamenti in accelerazione che alzano le temperature superficiali della mescola. Altro fattore di stress longitudinale è la frenata in tre punti del tracciato. Con un medio livello di deportanza la struttura non lavora in condizioni di carico verticale impegnativo anche sui rettilinei alle alte velocità. Viceversa i frequenti passaggi sui cordoli rappresentano uno stress meccanico per la carcassa chiamata a smorzare le frequenze vibranti per ottimizzare il lavoro delle sospensioni. Tracciato con fondo stradale quindi liscio e con diverse tipologie di asfalto. L'impegno della mescola è focalizzato nel compensare queste variabili per trasferire al pilota condizioni di grip costanti indipendentemente dal tratto di pista e dalle condizioni di appoggio della monoposto.